salve a tutti i ragazzi sono nell'irfa e oggi mi trovo su son of the forest dunque ragazzi ho provato a costruire la casetta vedete che è questa qua dunque vediamo se riesco a trovarla questa qua 75 tronchi veramente una roba lunghissima da dover fare e poi mi ritrovo con una casa che è una mattonella più un'altra mattonella quindi una roba minima 75 tronchi ci stiamo io e calvi in piedi praticamente non ne vale la pena ci vogliono veramente un sacco di tempo per farla e non serve a praticamente a nulla poi altra cosa importante è che anche le registrazioni di questo gioco magicamente metà sono con le immagini un'altra metà della registrazione è con lo schermata nera e c'è soltanto l'audio non so perché questa motivazione quindi non so nemmeno se riesco a fornirvi delle immagini a questo punto un giorno a tutti sono nell'irfa e oggi dobbiamo andare a costruirci finalmente la nostra casa sperando di non essere attaccati perché dovete sapere che ogni volta che si va a fare un accampamento arrivano i canini allora aiuto questi si vanno anche a rabbicare sugli alberi pochissima vita allora siamo andati avanti qua con la capanna ancora non è tutto terminato però alla fine lo spazio è veramente minimo quindi non so quanto serve a farla perché non ci sta nulla pensavo che fosse più grande e adesso sto facendo qua un po ma bisogna tirare giù veramente tantissimi alberi sinceramente allora vabbè continuiamo con pazienza poco per volta si farà qualcosa no ragazzi ma dai ma non è possibile un esercito è sceso ma distrutto in 448 cioè ore e ore di di costruzioni sono arrivati questi qua non so da dove avete visto ma hanno distrutto tutto non è possibile la roba del genere ma poi tantissimi erano almeno sei persone dunque allora la casa è completamente distrutta per un colpo da parte di un cannibale adesso non so bene nello specifico comunque c'era uno abbastanza grosso e grasso che fortissimo eccoli qua di nuovo e la propria città è che comunque ho messo nelle eccolo qua nelle impostazioni nelle impostazioni personalizzate che il gioco doveva essere facile e anche questi cannibali non dovevano essere troppo attaccabrighe invece è tutto il contrario quindi non tiene conto nemmeno delle impostazioni sono delusa perché comunque non è giusto che uno ci metta ci ho messo tipo due ore a trovare il punto avete calvin sempre poi per fatti suoi il punto per giusto per trovare dove andare a costruire la casa perché comunque alcuni fiumi non forniscono nemmeno il pesce non si sa perché alcuni pezzi di fiume si c'è il pesce alcuni altri no nel mare non c'è il pesce non lo fa raccogliere quindi è abbastanza assurda anche questa cosa e sì vabbè magari ti ti svegli ecco siamo qua e adesso voglio andare a controllare su steam se comunque qualcun altro ha riscontrato gli stessi problemi perché dai video che si vede sembra un gioco perfetto dunque ragazzi sono rimasta abbastanza allibita delle problematiche che ho riscontrato su questo gioco sto guardando su steam per vedere se poi comunque altri hanno trovato le stesse problematiche perché comunque vedo che la maggior parte degli streamer lo stanno portando senza alcun problema addirittura l'hanno già finito comunque sia vedete che qua comunque ci sono parecchie recensioni positive dove addirittura dicono che è un capolavoro cosa che io assolutamente nego che lo sia ma anzi dico che è pieno di bug e ha tantissimi problemi come potete vedere altre persone effettivamente si lamentano delle stesse mie problematiche la cosa principale che comunque vedete finito in dieci ore due anni per fare un gioco con mob identici al primo 30 euro per giocare a the forest 1 con una pompa e una pistola effettivamente questa impressione l'ho avuta anch'io cioè mi sembra più che altro un reskin del primo the forest perché comunque le grotte sono veramente le stesse e anche questo ragazzo credo questo ragazzo dice esattamente quello che ho pensato anch'io poi effettivamente 30 ore per giocare scusate 30 euro per giocare dieci ore è veramente una cosa assurda finisce veramente molto presto sono quasi due anni che aspettavo con ansia l'uscita di questo sonso a the forest ma purtroppo questa attesa è tutto l'hype è andato in frantumi dopo aver raggiunto il finale del gioco quindi dove sono le voci dei personaggi qual è la trama qual è il nostro compito in effetti sono domande che anch'io mi sono posta vediamo le altre gioco al quanto spoglio e finale un sacco di problemi mica lascia sempre a me i primi giorni mi cresciava parecchio ora ha diminuito quei crash ma ha aumentato i freeze quindi problematiche comunque di questa cosa qua che i mostri diciamo i nemici arrivano all'accampamento in sé si raccassano tutto non c'è ancora scritto nulla però magari mano a mano che passano i giorni aumentano le problematiche spendo 30 euro e non parte neanche sto gioco perfetto questo addirittura non mi parte nemmeno bello questo simulatore di cammina e spara alla ricerca dei punti già ben visibili sulla mappa che non portano ad altro che uno dei peggiori finali mai ideati e scollegati che siano mai stati creati negli ultimi 50 anni videoludici avevano più trama pacman allora devo dire che poi anche questi punti che ci sono sulla mappa vai e non c'è assolutamente nulla su alcuni quindi non so perché forse dovranno ancora incrementarli non c'è niente ma e puntini puntini e ragazzi non comprate questo gioco se ci tenete ai vostri soldi oppure aspettate due anni a prendetelo e prendetelo a 5 euro scontato con funghi di foresta compresi piuttosto prendetevi atomic heart oppure the force 1 non so in effetti l'uno perlomeno non è buggato come questo e almeno era una cosa originale perché questa è veramente la fotocopia dell'uno più estremamente simile al grinelle e poi tra l'altro il fatto di dover fare una casa non ho capito che cavolo serve perché poi comunque ci vogliono 75 tronchi per fare una capanna è un 2x2 quindi non ci stai tu e l'altro così in piedi e poi andare a mettere due sedie e un tavolo cioè non serve assolutamente a nulla il gioco è decente non si merita la mia approvazione in quanto il primo de force era migliore molto più pauroso più divertente più completo ho giocato son on the forest con un mio amico e lo abbiamo finito in 10 ore non consiglio gioco per il semplice motivo che non è ancora rilasciato definitivamente mi aspetto molto da questi sei mesi di sviluppo del gioco se potessi richiedere il rimborso allora a questo punto anch'io sicuramente andrò aspetterò gira malissimo praticamente aspetterò che fissano molte cose perché in questo momento stare un'ora e mezza a costruirsi una base e poi comunque con un colpo te la distruggono è veramente triste dunque allora anche questo qui si lamenta che i nemici one shot in effetti ti arrivano quello che una maschera ti dà un colpo e ti sciotta ok e anche il buio un buio pesto che comunque non si vede nulla anche se va accendere l'accendino quindi come ho notato io anche anche lui dice questa esatta cosa un'ultima cosa è anche i personaggi di famosi aiutanti i compagni che comunque sono abbastanza rimbambiti io ho provato soltanto kelvin però kelvin praticamente cioè gli dico di andare a prendere dei tronchi o dei bastoni mi va lontano da dove mi trovo almeno 500 chilometri lontano torna dopo mezz'ora e mi porta un bastone quindi lasciamo perdere non danno la mano per niente va bene ragazzi allora dobbiamo aspettare che comunque qua magari la maggior parte delle persone ha magari messo una recensione appena entrato in gioco e quindi detto bellissimo poi mano mano che uno gioca si accorge che il gioco ha parecchie problematiche comunque sì se volete saperlo come avete già potuto notare si va a concludere nel giro di 7 9 ore quindi una cosa veramente ridicola ma la una mezza idea l'ero già fatta quando ho visto che non usciva anche per console quindi solitamente quando non escono per console anche in accesso anticipato hanno dei grossi problemi comunque diciamo che il mio giudizio al momento del tutto negativo non ho nulla da poter dire inizialmente ero anche presa dall'hype cercavo di sperare che le cose migliorassero in questo momento è negativo poi se fisseranno quindi tornerò magari a giocarlo molto più avanti quando tutti questi problemi saranno finiti sperando che aggiungano delle cose comunque ragazzi se ancora non l'avete comprato aspettate a farlo è un consiglio che vi do sinceramente risparmiate i 30 euro per qualcosa di migliore vi ringrazio della visione fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate nei commenti ciao a tutti e alla prossima